Ciao! Questa è un'area che dedichiamo al beta testing dei siti e dei portali e-commerce, classificati come progetti non top secret, dove i clienti committenti possono valutare lo stato di avanzamento e intervenire durante lo sviluppo con le correttive, secondo i paradigmi della programmazione agile. Spesso si forniscono le indicazioni di progetto a gennaio e il prodotto è terminato per giugno. E magari nel rispetto delle indicazioni iniziali forniteci, il prodotto finale monta delle gomme da neve. Meglio che il cliente sia costantemente a bordo con noi in ogni fase dello sviluppo e ci dica in corso d'opera le correttive necessarie, ad esempio di cambiare le gomme. Per progetti non segreti è un posto aperto a chiunque in Internet voglia aiutarci nello sviluppo e fornirci in real time le sue impressioni prima che il lavoro sia consegnato al committente e venga effettuato il deploy sui server del cliente. Crediamo nell'intelligenza collettiva e nella bontà d'animo che mette in relazione i professionisti. Valuta le nostre proposte e per ogni domanda non esitare a contattarci. Grazie e a presto!